Ciao! Oggi realizzeremo una specie di aereo. Allora, prendiamo 18 palline, una riga di 18 palline, contiamo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, facciamo un cerchio e facciamo questo. Creiamo 12 di queste cose che io li ho già fatti. Ok, a questo punto andiamo a unirne 6 così. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dopo ne andiamo anche a unire così. Uno, saltiamo uno spazio, dopo un altro, saltiamo ancora uno spazio e un altro. Dopo lo facciamo anche sopra. Uno, due, tre. E dopo andiamo ad attaccare questo. e dopo chiudiamo qui, chiudiamo qui, anche di là. e così. Così abbiamo una specie di palla ovale. andiamo a chiudere, andiamo a chiudere i buchi così. Uno, due, qui schiacciamo giù, così. Deve uscire una specie di roba tipo così, come un uccello. Dopo, dopo mettiamo, prendiamo una riga di 6 palline. Andiamo a chiudere. Andiamo a mettere la palla. Dopo prendete una riga di due palline e staccate così. Dopo, se volete, potete aggiungere il muso che adesso vi faccio vedere. Andiamo a questo punto a ricoprire il buco che c'era qui. Dopo, se volete, possiamo completare le ali. Quindi, prendete tre palline e ne tenete una e le altre due e le mettete così. E dopo, le altre le mettete in punta. Deve essere così. Lo fate anche dall'altra parte. E il vostro aereo è fatto. Ciao!